Ieri la notifica del nuovo avviso di garanzia, stavolta per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ed in tarda mattinata la conferma dell'obbligo di dimora a carico del presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, la cui posizione si è notevolmente aggravata. Esattamente a 24 ore dalla discussione del ricorso con cui chiedeva la revoca della misura cautelare adottata nei suoi confronti 11 giorni fa, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha deciso di confermare l'obbligo di dimora a carico del capo dell'esecutivo calabrese, che dovrà dunque restare a San Giovanni in Fiore. I giudici hanno rigettato l'istanza di revoca che era stata presentata dall'avvocato Vincenzo Belvedere, il quale al termine dell'udienza si era detto fiducioso circa l'accoglimento del ricorso ed aveva parlato di repliche dei PM poco efficaci e di indizi a carico del suo assistito effimeri. Mario Oliverio era entrato nell'inchiesta su appalti e favori condotta dalla procura di Catanzaro con l'accusa di abuso d'ufficio, ma il rischio che le accuse nei suoi confronti potessero diventare più pesanti era già stato messo nero su bianco proprio dal giudice per le indagini preliminari Pietro Caret, che pur non assecondando la richiesta restrittiva avanzata dalla procura nella sua ordinanza aveva specificato che il fine primo di Oliverio sarebbe stata la lotta politica del tipo più deteriore, aggiungendo che non si poteva trascurare come essa si inserisca in un rapporto di scambio con l'imprenditore Giorgio Barbieri, che, scrive il GIP, appare riduttivo definire clientelare, potendo ben sconfinare nel terreno della corruzione. Era dunque lo stesso giudice per le indagini preliminari ad anticipare la mossa che i procuratori aggiunti Vincenzo Capomolla e Vincenzo Luberto ed il sostituto procuratore Alessandro Prontera hanno poi formalizzato col nuovo avviso di garanzia. La decisione di stamattina dei giudici del riesame conferma dunque la validità delle contestazioni della procura di Catanzaro e conferma l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. L'inchiesta in cui Oliverio è coinvolto insieme ad altre 15 persone, denominata Lande Desolate, riguarda gli appalti per la realizzazione della sciovia di Lorica e dell'aviosuperficie di Scalea, appalti entrambi affidati all'impresa di costruzioni di Giorgio Barbieri, che i magistrati ritengono vicino alla cosca muto di Cetraro e che è stato arrestato il 17 dicembre. Dallo stesso giorno e agli arresti domiciliari anche Luigi Zinno, il dirigente del Dipartimento Programmazione, uno dei più delicati ed importanti della regione, già che gestisce le risorse nazionali ed europee, mentre Paola Rizzo, responsabile della sorveglianza sulla spesa dei fondi comunitari, risulta sospesa. La vicenda ruota attorno al finanziamento di oltre 4 milioni di euro garantito a Barbieri nel maggio del 2016, malgrado opere ineseguite o comunque non funzionali, parole sempre del GIP Carè, e questo in cambio del rallentamento dei lavori che l'impresa di Barbieri stava eseguendo a Cosenza per Piazza Bilotti, che secondo l'accusa Oliverio avrebbe richiesto per danneggiare l'immagine del sindaco Mario Occhiuto.